per l'uomo puoi sedere dove credo io senza creare voi è che il testo risolvi a dire che la rarrazione e' un'altra e' un'altra cosa dove? dove andiamo? hai visto che su tutti i botte andrei qua si, tutti i botte su tutti i botte che cazzo tutti no comunque beh mai mi uccidono se non muoio su ciò mi ci botte che era un po' prima della partita vado in là vabbè andiamo dunque c'è la ragnatela anche come del templano vediamo com'è bella bella però ma è pure nera è pure nera col portaggio nero e fa il portaggio n'invidia no ho messo tutto di spade ho messo anche il piccolo invece quanti botte ci sono? pazzesco tema non è in giustizia ti basso botte comunque i video come scendono ho messo solo da parte di spetta l'ho messo dici che son botte? ma questo forse non è un botto però non ci vedo di qua eh cosa che fa? ho la cassa blu che culo c'ho cosa che voleva fare? cichino vaffanculo va ma dammelo un altro cichino dammelo ho una squadra dei ai botti giuse nel senso a giuse vuoi scudo? no no ah comunque ricordi che i funghi e i cocchi io ma di cocchi io i funghi e i cocchi ti danno scudo il resto no eh i funghi e i cocchi ti danno i scudi non se li manchi i funghi e i cocchi non ci sono racchi da nel giro ma da me vengono non cazzo c'è 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 tu sei sono qua secondo me gua ma sei roba qua non Pietro di s 한데 qua verdi debì aprire da giuse vieni qua vieni qua che ti faccio vedere una cosa oh non capisci qua vieni qua vieni questi qua verdi sto qua la roba coppi coppi e i fumi ti danno studi, il popperoncino della velocità per esempio dire la vera la produzione maio maio lucidissimo giudice maledetto porca puttana che no la barba sull'energia però i cocchi e i fumi per le manate tutti i denti però c'è la velocità per un po' vuole per un cilino se la botte aprono le case anche le pietre la scena libera per favore per loro c'erano i sui cd non è fatta non sono scemi bello sto peccone di spider però non è male devo dire mettiamo peggio cioè quando sbaglio fa un bel uso non è giusto però le cose più avanzate ce le hai sempre fortissimo dai scudo, scudo mi serve no, te lo do che cazzo che te lo do mi pare che io so scendo ma che dico che lo mette lo do non è capito c'è però no c'è c'è uno scudo a voglia c'è un sacco di splash qua io già ne ho 6 qua ce ne sono altre 6 cazzo come che com'è la cazzo lasciami qualcosa nooo ne ho presi tutte ne ho presi tutte ne ho presi tutte no che cazzo sono morti tutti già ma ce ne ho bisogno no le splash ma c'è uno scudo non sei sono eh le splash me le porto via ma c'è chi lo doro qualcuno lo vuole dove sta vado c'è chi lo doro eh ma c'è quello viola però vabbè cambia data c'è un altro scudo qua eh c'è un altro scudo qua eh questa roba c'è però è la stessa no non posso buttare tutto gli scudi mi spiace eh ma bisogna andare eh andiamo ma sei sicuro che bisogna che bisogna andare eh c'è della macchina ehi mano cazzo non c'è tutto d'oro cazzo e non è un pompa però vabbè invece è un pompa d'oro te lo dico no non no non ti prendi a macchina ti prendi a macchina vado vado Giuseppe non c'è te taxiiiiiiing non so neanche a me o mi è meglio ehm dio perché non mi è nel gippo stufullo d'oro vado che c'è quello che credi eh sono andavolo un po' più avanti perché ma secondo te è meglio ammetraglietto il popolo no, avete preso il potere d'arresto perché la foto di cazzo, il potere d'arresto il potere d'arresto bello e così te ne vai andiamo, sceliamo oh oh massacrato vaffanculo hai ucciso quello che ti ha battuto? tira uno sull'occhi ah no, non era così no ma, fa sparare una bella ah, chi è? io ti lascio il cecchino viola qua, perché mi lascio un po' di roba ha una roba tutti, ma c'è un altro che sta arrivando non ci vedo eh, da dietro mi sembra che spara un po' di merda ho preso però c'è un po' di materiali, non so dove cazzo ah, morca tronia, la cazza di qua, eh, sto bastardo ah, cussiiiiiii ma non lo piglia ma, ma, vai, è morto quasi morto, morto, morto da qui mi danno un cecchino io, però ma quello lì l'hai ucciso qua qua sopra qua oh, si io tutto d'oro ce l'ho abbraccio eh, vabbè, però non so mai niente va, vabbè, non so mai niente ma non mi servava cosa per curarmi, cazzo ma c'è la tenda ma non c'è la tenda, no? ma non c'è la tenda, no? no, per gli scudi non mi scudi, certo, io sono le due ma è che ha preso ma dici che... qua ci sono dei maledetti da dietro c'è il livelli aiutami leandra c'è un altro dietro dov'è? deve essere lì è l'altro aiutami mi sono riuscito ad ancularmelo a la piccoli munizioni giudice per per alex bravo la piazza un buon anno via corale ma ho fatto io che carico di occo è pazzesco dove a con la notte a chi è data alba sta per a il prezzo petto di terra forza dov'è chi è ma c'è chi nato ma che sfiga ciò però porta da capito da dove da dietro guarda la punta la corona dove cazzo è la corona ecco lì l'ho colpito però mi ha colpito pure a me per puntare dov'è la corona? non la vedo ah 95 ancora mi creano un po' non crei mai cazzo ma se credi vedono quello non creo oh 3 volte 95 io ho fatto tutte quanti eh 3 volte l'ho beccato ma che cazzo è anche dai no quello è un botte cazzo ma si parla solo a me c'è corvo viola ah una miglietta viola spero vado a fermo c'è materiali non c'è materiali cazzo crei a caso ma perchè devi creare ma si sa dici che a caso c'è nessuno sempre credo io oh qua c'è ma quelli lì? sempre che volevano venire addosso ma che ci volevano venire addosso invece alla fine si sono scappati perchè l'abbiamo assaggiata ah ma qua c'è roba eh hanno rianimato lì in fondo non so se l'hai visto io vado diiii ma non c'è uno scudo qualcosa tipo dai lo scudo mi vuole cazzo ci saranno dopo che appaggia no? ci sono munizioni eh io sono già qui no no te andrò ehm come le andrò? a te che non volevo dire dai materiali almeno cazzo no mi sparano sempre a me no chi è? oh merda no no chi è? ma basta ma con tre rimane no ecco ma pizzicarmi da dietro da ehm ecco la scuola guarda guarda pizzica pizzica adesso ho dovuto lasciato rimanotto il caso dov'è che pizzica? c'è uno che pizzica in cipolla da qualche parte eh di pizzicarmi pizzicalo no mi ha usciato come ha rotto i coglioni eh due ore che mi pizzica c'è pure pompa viola madò dov'è andiamo? vai ma ancora eh? oh guarda oh ti fai punzecchiare? ma saranno quelle di prima ma vi puoi sparare finchè vi sparano eh si ma se mi dici dove cazzo 190 gli ho fatto uno ho voluto un fermi come coglioni cazzo e io vi sto giusto quelli che fermi cos'è che spara? eh? proprio dei coglioni quelli ah ma ci marrà proprio eh no non sono quelli eh quindi pizzicati testa di cazzo nooo ha perso vita ma non ci posso crede però eh ah finito i materiali eh aiuti finito i materiali eh ah ma tu se mi avvenisci ma te ne arrivo spacco tutti spacco quel coglione ah 21 bianco quel coglione qui eeeh ah oh eeeh 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 mi è quasi morto quel coglione roba che frega l'uccisione con l'altro la vista è spesa avete cure oh eeeh c'ho le splash insomma vai 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 ah no c'è c'era giusto vai i materiali chiusi ne hai la dan qual coglione ma dooo ma che sfigaccio ah no basta basta stanno massacrandoli eh mmmm ma dooo vuoi più da diet no uno è battuto lo vogliono curare eh ma vai in figa va mi gioco bene però sono stato dietro giuse aiutami giuseee giuseee che giu... che giu... porca puttana guarda quello che culo che c'ho giusto ma che partita è questa però ma dooo ma che giocatore sono ragazzi ma non nemmeno eh che idea cosa ho fatto raga ahahah ahahah ahahahah 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 ahahahah